Questo è un taxi dove ci si diverte. Prego. Dove devo andare? A termini. Ok. Mentre andiamo alla stazione, se il cliente vuole, facciamo una piccola esibizione. Un talento ce l'hai anche tu, tiralo fuori, ma soprattutto lasciati andare. Teoria di Monza 13, se sali a bordo parte il tassametro insieme alla telecamera di un telefonino. L'amore lo sai, cantare l'amore non basta mai. La voglia di allentare le tensioni e chissà di lasciare un ricordo sorridente di se stessi, ecco come un tassista romano sta spopolando su YouTube. Alberto, posso metterla su YouTube? Se viene bene, molto volentieri. Ognuno di noi ha una voglia di cantare, di inventare, di proporsi. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi... di tirare fuori quell'altra regola che uno ha dentro. C'è chi ascolta musica, che mi fa i complimenti per la musica che ascolto. Chi invece vuole giocare. Quella ha passione per la musica che può sfogare solo in taxi perché a casa gli è stato imposto ormai il silenzio. E con la sua simpatia romana ci confida, come a cena ad una nota, si sente subito gridare. A papà, state zitto.